Chi di noi non ha subito il fascino di Amedeo Modigliani a Parigi e come potrebbe essere altrimenti? Modigliani affascinante, coraggioso, generoso, amico di tutti, fraterno compagno di James Houtin, di Utrillo, amico anche di Picasso, conosciuto da chiunque. Ce ne traccia un ritratto interessante soprattutto nei suoi rapporti con gli altri artisti presenti in quel periodo, Dan Frank nel suo Montmartre e Montparnasse, edito da Garzanti, e scrive quando la porta di un locale si apre su Modigliani la faccia di Soutin si illumina di colpo, lascia qualunque attività per guardare l'italiano che passa in mezzo ai tavolini. Amedeo è l'esatto contrario di James Houtin. Va dall'uno all'altro, sorride, stretto in un panciotto e in una giacca di velluto. Porta una camicia di tela da materasso, ma una lunga sciarpa lo segue come una scia. È bellissimo, simpatico, un attore. Si siede davanti a uno sconosciuto, allontana tazze e piattino con le lunghe mani nervose, tira fuori di tasca, un taccino e una matita. Si mette a canticchiare e incomincia a disegnare un ritratto senza nemmeno chiedere il permesso del cliente. Un tratto solo, firma, stacca il foglio e lo tende orgogliosamente al suo modello. È suo in cambio di un vermut. Così beve e così mangia. E poi ancora, Modigliani viene dall'Italia. Il sole d'Italia è più leggero della luna russa, la luna che conosceva Houtin, e i sefarditi sono più sensibili alle bellezze del mondo. Amedeo è ebreo e vuole che lo si sappia. Fa pugni con gli antisemiti e poi è italiano e non lo dimenticherà mai. A Parigi gli manca il suo paese. A Livorno non vede l'ora di tornare a Parigi. Dice sempre che l'Italia lo rimette in forze, ma che riesce a dipingere solo quando è tormentato. Il suo tormento è Montparnasse. Modigliani conosce Mallarmé e L'Otremont. È di buona famiglia, la sua famiglia l'ha sempre sostenuto. Nella biblioteca di famiglia ha scoperto tra gli altri Nice, D'Annunzio, Bershon, Kropochtin. Suo fratello è un militante socialista che prima di essere eletto deputato conoscerà la prigione. Modigliani è coraggioso. Alla dichiarazione di guerra vuole arruolarsi. Le autorità militari lo respingono perché è troppo debole. Ne prova una gran pena, cosa che non gli impedisce di dichiarare a voce alta il suo antimilitarismo. Un giorno lo prendono a botte perché ha insultato alcuni soldati serbi di passaggio a Montparnasse. Modigliani lo conoscono tutti. Nel 1907, un anno dopo il suo arrivo a Parigi, ha conosciuto il dottor Paul Alexandre che è stato il suo primo mecenate e uno dei primi a procurargli l'Ascis. Il dottore ha affittato una casa in Rue du Deltà. Ci vengono gli artisti poveri come Glaise, Le Fauconnier, Druar, Brancusi. Modigliani attacca sulle pareti i suoi quadri. Paul Alexandre ha posato per lui. È Paul Alexandre che lo ha convinto a esporre al Salon des Independents nel 1908. Anche Apollinaire ha aiutato Modigliani a vendere qualche quadro. Paul Guillaume, il suo primo mercante, gli è stato presentato da un altro amico, Max Jacob. Con Max Modigliani parla di religione e di ebraismo. Gli ha fatto un ritratto e gli ha regalato con questa dedica. A mio fratello con grande tenerezza. Modigliani è anche legato a Frank Avilan che gli offre la propria casa come studio. Fa scoprire Parigi a Anna Khmatova. Insieme recitano poesie di Verlaine. Protegge Otrillo, il suo grande amico della Butte. Lo sente più vicino di Picasso. Per Picasso però bisogna riportare un altro passaggio in cui racconta che Modigliani ha solo i suoi disegni come patrimonio a Parigi ma mezza Montparnasse ne possiede uno. Quando non li scambia per un bicchiere li regala. Li vende anche per qualche soldo. La sua generosità è leggendaria. Se ha due biglietti di banca è capace di lasciarne cadere uno ai piedi di un povero più povero di lui e di dirgli che deve essere caduto qualcosa. Lo racconta André Salmon. La prima volta che Modigliani aveva incontrato Picasso in un caffè di Rugo d'Odemoroa gli aveva regalato i pochi soldi che possedeva. Quindi un regalo senza ritorno di Modigliani a Picasso. Modigliani è ovviamente il grande amico di Soutine. Il loro rapporto è ben noto. Lo ha preso sotto la sua protezione. È lui che gli ha insegnato a masticare con la bocca chiusa. Soutine era un po' un po' rozzo ecco. A non infilare la forchetta nel piatto dei vicini. A non russare quando si addormenta al ristorante. Percei Mamedeo è come un fratello e gli giura eterna riconoscenza. I due uomini sono profondamente diversi ma i legami che li uniscono sono solidi. Come Soutine Modigliani distrugge quando ne è insoddisfatto gran parte del suo lavoro. Tele, sculture. A Livorno ha buttato nel canale molte sculture e da questo nacque l'ispirazione per la famosa beffa dei falsi modigliani. L'uno e l'altro hanno il culto dell'indipendenza. Non fanno parte di nessuna banda. Non si sentono vicini né a quelli del bateau-la-voire né ai futuristi italiani per i quali Modigliani non ha voluto garantire. Non sono cubisti, non sono fauve, non hanno frequentato l'Accademia Matisse, vanno di rado dagli Staini a Rodeflor, vogliono essere liberi fuori da qualsiasi scuola. L'uno e l'altro devono combattere contro lo stesso nemico che li distrugge dentro. Modigliani soffre di una lesione polmonare contratta quando era bambino e che a forza di alcol e di droghe finirà per degenerare in tubercolosi. Stain ha il verme solitario e gli fa male lo stomaco. A forza di saltare i pasti finirà per prendersi un'ulcera. Ogni tanto l'italiano è preso da spaventosi accessi di tosse. Il russo manda giù quantità impressionanti di bismuto che alleggeriscono a stento la morsa del dolore. Infine ognuno di loro si porta dentro il proprio dramma. Il dramma di James Soutine lo sanno tutti alla sua infanzia. Per capire quanto gli pesi il suo passato basta vederlo camminare per strada. Curvo le mani infilate nelle tasche del cappotto logoro. Amedeo nasconde il suo dramma sotto la sua esuberanza. Cerca di soffocarlo con l'alcol, con la droga, ma Soutine non si fa ingannare. Conosce il dolore profondo che Amedeo tenta di vincere. Sa che cosa cerca di dimenticare con le donne o al banco del bistrò. Lo sa perché una volta nel 1910 hanno abitato assieme alla Cité Falguière. A quel tempo Modigliani combatteva contro se stesso, contro gli attacchi della malattia, per realizzare il suo solo vero e grande sogno. Non la pittura in realtà, ma la scultura, solamente la scultura.